Consentire ai tirocinanti calabresi di beneficiare della indennità di mobilità in deroga o estendere la possibilità di usufruire del reddito di cittadinanza. E' quanto afferma l'assessore regionale al lavoro Fausto Orso Marzo che annuncia un intervento presso il Ministro del Lavoro, Catalfo e la Conferenza Stato-Regioni, per individuare una soluzione che possa garantire un reddito ai circa 6.000 tirocinanti calabresi che a causa dell'emergenza coronavirus hanno subito l'interruzione dei progetti formativi. E' quindi la possibilità di ricevere i relativi pagamenti dall'Inps. Ci siamo subito messi in moto per garantire l'immediata attivazione della cassa integrazione per i lavoratori delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria, spiega Orso Marzo. Ma sulla situazione dei tirocinanti non abbiamo la possibilità tecnica di intervenire. Si tratta di 4.700 ex percettori di mobilità in deroga impegnati nei tirocini di inclusione sociale, altri 600 nei tirocini presso il MIUR e più di 600 presso il MIBACT. Chiediamo quindi che il governo si faccia carico della difficile condizione economica che si trovano ad affrontare migliaia di famiglie calabresi, alle quali deve essere garantito il sostentamento almeno finché non sarà finita l'emergenza sanitaria e ci saranno le condizioni per ripartire con i percorsi formativi.